Ben tornati su Fair Play. La Juventus e la Roma vincono la prima gara della UEFA Women's Champions League 2022-2023. La Juventus vince contro i campioni del Luxemburgo, ovvero il Racing FC Union Luxembourg, per 4 reti a 0. A segno vanno in ordine rispettivamente Rosucci, Girelli, Caruso e Bonfantini. Juventus che non è affatto nuova a questa competizione, mentre la Roma la gioca per la primissima volta nella sua storia e affronta a Glasgow i vice campioni di Scozia, ovvero il Glasgow City. Vantaggio giallorosso con Benedetta Lyonna, pareggio delle scozzesi con l'autogol di Moeka Minami, dopodiché doppietta di Lyonna e terzo gol romanista con Paloma Lazaro. Quindi tutte e due le squadre vincono, Juventus 4 a 0 e Roma 1 a 3. La Juventus affronterà nel successivo match, sempre del primo turno preliminare, la squadra israeliana del Kiryat Gat, mentre la Roma affronterà le francesi del Paris FC. Successivamente, a settembre, si giocherà per tutte e due le squadre una gara di andata e una gara di ritorno contro una sola squadra che anticiperà la fase a giorni della competizione, che è l'obiettivo principale di tutte e due le squadre. Da Fair Play per adesso è tutto con questa news molto semplice, molto veloce e noi ci rivediamo sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.